raga tenetemi quello a destra come si gioca oggi? grazie Elisa il prestito ragazzi campo pazzesco ma di che stiamo parlando campo pazzesco dell'anonima ma di che stiamo parlando luce verde due fatti bel fucile ok difesa che rientra non 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 è il problema, il risponso. Il risponso. Non è l'ottile? Non è l'ottile? Non è l'ottile? Nonete! Sono tanti, eh? Vesu! Vesu! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Rientro Uno, due Ok, io vado a stacco Carico Preso Vero? Vero Raga, tenetemi quello a destra Vero 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 Vero